Il 19 gennaio nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris si è svolta la premiazione dei vincitori della quinta edizione del premio Piemonte Mese. I giovani scrivono il Piemonte. Hanno consegnato i riconoscimenti i consiglieri regionali Gian Piero Leo e Gianluca Vignale che hanno portato il saluto dell'Assemblea, oltre alla presidente dell'Associazione Piemonte Mese, Lucilla Cremoni, e al presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte, Alberto Sinigaglia, che ha presentato la cerimonia con il vicepresidente dell'Associazione Giovanni Peira. Organizzato dall'omonima associazione culturale riservata ai giovani tra i 18 e i 35 anni, il premio si articola in tre sezioni, culture e ambiente, enogastronomia, economia e artigianato, e da questa edizione include anche una sezione audio-video riservata a servizi sui medesimi filoni tematici. I vincitori ai quali è conferito un premio di 1000 euro da dividersi in parti uguali nel caso di ex equo sono Simone Schiavi, la storia del paese che visse due volte per la sezione cultura e ambiente, Oscar Borgogno, energia rinnovabile, chi condivide guadagna, e Chiara Priante, Torino il design alla pasta di zucchero, così nasce un'impresa, ex equo per la sezione economia. Lorenza Castagneri, wanted, il formaggio diventa social, e Gabriele Pieroni, sono dunque vendo storie dai mercati della terra, ex equo per la sezione enogastronomia, e Ugo Leo, le marionette della famiglia Lupi, per la sezione audio-video.